Dottore Pecenza, questo convegno dedicato alla diabetologia, quali sono i punti fondamentali? Innanzitutto un confronto con tanti altri colleghi provenienti da tante parti d'Italia e vorremmo rimarcare le possibilità terapeutiche nuove che in farmacologia sono intervenuti in questi ultimi anni e fare in modo che anche le istituzioni sanitarie prendano atto dell'importanza di questa malattia e che si adottino le misure più corrette, che si intervenga in maniera più capillare e specifica rispetto a questa utenza che nel territorio di Crotone registra una prevalenza di circa l'8,3% su una popolazione di 174.000 abitanti residenti quindi è una percentuale piuttosto importante e quindi è una sfida che noi abbiamo raccolto e stiamo cercando di portare avanti. C'è voglia di migliorare la qualità della vita del paziente che ha questa patologia del diabete? È fondamentale, non si deve pensare alla glicemia di per sé, si deve pensare al paziente diabetico con tutto quello che gira intorno. Per fortuna la terapia è molto migliorata, c'è stata una rivoluzione rispetto agli ultimi anni, questo ci conforta e vorremmo implementare la cultura della prevenzione, cioè fare in modo che i pazienti che non sono diabetici non lo diventino per abitudini sbagliate e quindi si sta lavorando anche in questa direzione. Qual è la prevenzione? Che cosa bisogna fare per la prevenzione? C'è uno stile di vita corretto, essenzialmente alimentazione corretta e attività fisica. Sembrerebbe facile a dirsi ma molto spesso non lo è, siamo bombardati da tante parti, l'aspetto della prevenzione secondo noi rappresenta uno dei capisaldi rispetto al quale l'utenza tutta dovrebbe confrontarsi. Questo confronto che c'è fra medici sulle nuove terapie, queste nuove terapie sono terapie di che tipo? Sono terapie un pochino varie, terapie per via orale, terapia per via iniettiva, parleremo di farmaci che si possono iniettare una volta alla settimana, parleremo di farmaci che prima si somministravano singolarmente, non hanno la possibilità di essere messi insieme, parleremo di nuove insuline, quindi un bagaglio terapeutico importante a disposizione del paziente diabetico.